Ciao a tutti ragazzi e bentornati come sempre qui sul canale di The Reviewver, il vostro ragno recensore. Sigla! Bene ragazzi, altro personaggio in esame su guida ai personaggi, oggi ci occuperemo di Flash. Avere a che fare con l'oneroso incarico di riassumere o compilare comunque la storia di un supereroe DC è sempre un compito indicibile, visto che di solito si tratta di seguire corsi di eventi che affondano le loro radici a oltre 70 anni fa. Oggi quindi ce ne andremo in giro per Central City cercando di scoprire le origini e la storia di Flash, l'eroe in tutina rossa, veloce come un fulmine. Flash è un personaggio dei fumetti creato da Gardner Fox e Harry Lampert nel 1940, pubblicato dalla DC Comics. È un supereroe con il potere di muoversi a velocità straordinaria sfidando le leggi della fisica. La sua prima apparizione è in Flash Comics numero 1, soprannominato il velocista scarlatto, la sua identità è stata assunta da 4 differenti personaggi, che ora esamineremo uno ad uno. È Jay Garrick il primo Flash. Siamo nell'era della Golden Age 1940-1955, era dei comic in cui agisce la prima generazione di supereroi nati negli anni 40. Ci troviamo di fronte a Jay Garrick dunque, uno studente del college che stava studiando una forma sperimentale di acqua pesante, quando un incidente ha rilasciato fumi pericolosi che lo hanno reso incosciente. Dopo aver inalato i fumi tutta la notte, si è svegliato in ospedale per scoprire che poteva muoversi e reagire a velocità sovrumana. Divenne un combattente del crimine e uno scienziato di Kingston City. Due ruoli dunque che si intersecavano sorprendentemente spesso, dal momento che la sua vita e le sue ricerche civili lo conducevano spesso in avventure come Flash. Con gli anni diventa poi membro fondatore della Justice Society of America, quando dovette svelare la propria identità al mondo intero, si ritirò a vita privata. Rientrò in azione solo dopo la comparsa degli eroi della Silver Age, e in special modo quando il Flash di Terra 1, Barry Allen, di cui parleremo tra poco, lo andò a trovare per sbaglio nella sua dimensione, introducendo così il tema del multiverso nell'universo DC. Barry Allen è quindi il secondo Flash, nell'era Silver Age, 1956-1986, per ricomparire poi nel 2008, sino ad oggi. È generalmente considerato il primo supereroe della Silver Age, ed è tuttora uno dei personaggi DC più amati e popolari di sempre. Anche in Italia il personaggio ha un discreto seguito e le sue avventure sono state tradotte su varie testate, pubblicate da diversi editori nel corso degli anni. Attualmente è anche il protagonista della serie DC, The Flash, che ha avuto il suo debutto grazie alla serie basata su freccia verde, Arrow. Ma torniamo a Central City. Barry Allen è un brillante studente di chimica, noto a tutti sia per la sua bravura in questo campo che per il suo essere perennemente in ritardo, specie se assorto in qualche esperimento scientifico o nella lettura del suo fumetto preferito, Flash. La sua voglia di seguire le orme di Flash lo spinse ad arruolarsi nella scientifica della polizia combattendo il crimine a modo suo. Un giorno incontra Iris West, donna insaziabilmente curiosa e dal grande carisma che si innamora di lui. I due si fidanzano ma un giorno qualcosa di inaspettato accade. Mentre era in laboratorio, Allen viene investito da dei prodotti chimici caduti da uno scaffale per colpa di un fulmine. Stordito ed incredulo a causa dello strano incidente, uscì per tornare a casa. D'improvviso scoprì di correre più veloce dei taxi che cercava di raggiungere. Subito dopo si accorse infatti che la reazione combinata del fulmine dei prodotti gli avevano assegnato una velocità sovrumana. Mentre si apprestava a dirlo alla sua futura moglie, si rese conto di quanto potesse essere pericoloso per lei e quindi tacque. Il fatto di possedere l'ipervelocità ne cambiò drasticamente la vita. Iniziò infatti a mettere il proprio potere al servizio dell'umanità combattendo il crimine, sviluppando particolari tecniche come quella di correre così veloce da poter camminare in verticale sui muri o di passare attraverso gli oggetti vibrando a particolari frequenze. Subito assunse l'identità di Flash in onore del suo eroe d'infanzia, ma cambiò drasticamente il costume. Gli autori infatti modernizzarono Barry Allen chiamandolo il velocista scarlatto, conferendogli un aspetto più vistoso. Barry Allen è ormai un supereroe, un semidio, una sorta di mercurio moderno, veloce, inarrestabile e ha il nome di un eroe dei fumetti. Non ancora soddisfatti di tutto ciò che avevano creato, tra le pagine di Flash DC presenta ai suoi lettori un'importante novità, il multiverso. Infatti, con suo enorme stupore, un giorno Barry scoprì che il suo eroe d'infanzia, Jay Garrick, non era un personaggio di fantasia, ma una persona reale che viveva in una dimensione parallela alla nostra. Questa situazione illogica e paradossale verrà poi spiegata dal fatto che la terra su cui vive Flash della Golden Age, detta Terra 2, è in un altro universo parallelo rispetto a quello di Barry e degli altri eroi della Silver Age. Infatti, lo stesso Barry scopre, durante il suo incontro con Garrick, che lo scrittore delle storie del primo Flash nel sonno si connetteva telepaticamente a Terra 2. Questo apre il sipario a scenari incredibili, in cui due diverse realtà collidono e si fondono. Barry impara quindi che può viaggiare nel tempo, impostando specifiche vibrazioni molecolari. Inoltre, per aiutarsi con più precisione, costruisce quello che chiamò il Tapirulan Cosmico. Questo particolare sarà poi cruciale nello sviluppo delle storie, sia per l'invenzione dello stesso Tapirulan Cosmico, sia perché lo stesso gli permetterà poi di passare da un'epoca all'altra, da una dimensione ad un'altra. Barry affiancherà e sostituirà in parte Jay Garrick, suo predecessore, eguagliandolo in velocità e superandolo in forza. A differenza di Garrick, la velocità gli conferisce l'invisibilità e di passare attraverso gli oggetti. Divenne inoltre socio fondatore della Justice League of America, dove strinza amicizia soprattutto con Al Jordan, il lanterna verde della Silver Age. Tra i due nacque subito una particolare intesa, Barry Allen e Al Jordan furono infatti i primi a rivelare la propria identità ad un proprio compagno di squadra. Inoltre, come molti supereroi dell'epoca, anche Allen aveva un sidekick, Kid Flash, che altri non era che suo nipote acquisito Wally West, su cui aveva visto ripetere lo stesso incidente che anni prima gli diede i suoi poteri. Wally affiancò Barry per molti anni, fino a quando non andò per la sua strada assieme ai Teen Titans. Le storyline che hanno come protagonista Flash e i crossover con altre testate sono davvero una marea. E riuscire a raccontarle tutte è un'impresa quanto mai impossibile, ma si può in un certo senso riuscire a segnare quali sono i momenti più importanti della narrazione del personaggio di Barry Allen. Dopo gli anni 70, infatti, il buon vecchio Barry è investito da un'ondata di tragedie, tutte architettate dal suo acerrimo nemico, Professor Zoom. Ed ecco quindi comparire anche i supercriminali. Barry ne combatte molti, come Capitan Cold, Hit Wave, Abracadabra, Trickster, Gorilla Grood, Capitan Boomerang. Ma il suo letale nemico è, senza ombra di dubbio, il Professor Zoom. Nato nel trentesimo secolo e ossessionato dalla vita di Barry Allen, voleva essere il Flash della sua epoca. Fu per questo motivo che riprodusse il bagno chimico con il quale Barry acquisì i suoi poteri, acquisendoli a sua volta. Assunse il nome di battaglia, di Professor Zoom, e tornò indietro nel tempo causando il caos nella vita di Barry. Da qui circa un minuto e trenta di spoiler, quindi se non volete rovinata la sorpresa leggendo i vostri fumetti, saltateli. Finché un giorno tornò dalla sua epoca e uccise sua moglie Iris, alla quale nel frattempo Barry aveva rivelato di essere Flash. Il Professor Zoom, detto anche l'anti-Flash, era forte e veloce come Barry, ma più spregiudicato e sprezzante del pericolo. Però un fattore giocava a suo vantaggio. Con la sua conoscenza del futuro, sapeva cosa sarebbe successo. Dopo aver ucciso sua moglie, Barry lo inseguì attraverso il tempo finché un tunnel temporale non gli portò via la vendetta. Sebbene non riuscisse a dimenticare Iris, Allen dopo alcuni anni incontra Fiona Webb, con cui intreccia una nuova relazione. Alla vigilia delle nozze, il Professor Zoom riappare e tenta di uccidere la futura signora Allen. Per fermarlo, Barry è costretto a ucciderlo e per questo viene processato. Quando è costretto a rivelare la propria identità in pubblico, si sottopone a una plastica facciale così da risultare irriconoscibile. Cadabra, tornato dalla sua dimensione, ipnotizza la giuria per condannare Barry. Ma una rediviva, Iris West, lo aiuta affinché venga assolto. Iris è riuscita a sopravvivere perché una frazione di secondo prima della sua morte, i suoi genitori, provenienti dal futuro, avevano ingabbiato la sua energia vitale in un suo perfetto clone così da farla rivivere. La loro vita ricomincia normalmente, ma nel trentesimo secolo. Barry sta vivendo quindi il nuovo capitolo della sua vita, nel trentesimo secolo, perché lui può viaggiare nel tempo grazie al tapirulan cosmico e si sta godendo quindi così la gioia della routine familiare. Ma un uomo con questi poteri non può passare inosservato e, come potete immaginare, Allen finisce nuovamente sotto la lente del supervillain di turno, Anti-Monitor. Si apre una guerra tra i due e la posta in gioco è alta. Barry riesce a far saltare i piani del cattivo, ma il prezzo da pagare è che la sua stessa essenza sia consumata e dispersa nella Speed Force, una forza che gli dà i suoi poteri e che è allo stesso tempo il luogo mistico in cui tutti i super velocisti finiscono dopo la morte. Nel lontano 1986, quindi, Barry Allen muore, consumato dalla sua Speed Force. Naturalmente, evito di raccontarvi tutti i minimi particolari, altrimenti non ci sarebbe più gusto nel leggere i fumetti. Anzi, mi sono spinto anche troppo oltre, quindi mi scuso con qualcuno che probabilmente criticherà anche questa mia recensione, proprio per il fatto di aver svelato troppi particolari. Ma come detto all'inizio, reputo veramente difficile parlare dei personaggi di C, quindi di circa 70 anni di storia, senza poter raccontare qualche particolare. Ve ne renderete conto ora quando introdurrò il terzo e il quarto flash della storia. L'eredità di Barry Allen, quindi dopo la sua morte, non è andata dispersa. Suo nipote Wall-E, commosso dal suo coraggio e dall'altruismo che lo ha sempre contraddistinto, ha deciso di proseguire la sua opera diventando il terzo flash, Wall-E West. Intanto, sua moglie Iris, nel futuro, diede alla luce due figli, Donald e Don. Il primo ebbe a sua volta un figlio di nome Bart Allen, che verrà mandato nel XX secolo dalla nonna per imparare da Wall-E e Jay a gestire i propri poteri. Anche Bart contribuirà a mantenere alto il nome degli Allen, indossando per un certo periodo il costume di Flash, che fu del suo glorioso nonno. Siamo pronti quindi a parlare del terzo flash, Wall-E West, dell'era Modern Age, 1987 fino al 2006. Wall-E West è il nipote di Iris West, moglie di Barry Allen, l'alter eco del velocista scarlatto di Central City, Flash. Cresciuto a Keystone City, aveva un pessimo rapporto col burbero padre, Rudolph, e per questo motivo, appena possibile, andava a trovare sempre l'amata zia Iris. Wall-E West nasce come Kid Flash, la spalla adolescente di Flash. È uno dei membri fondatori dei Teen Titans, di cui fa parte sino alla morte di Barry Allen, avvenuta in crisi sulle terre infinite. Da quel momento, il giovane Wall-E raccoglie l'eredità dello zio Barry e diviene il nuovo velocista scarlatto. Wall-E West, purtroppo, nel corso della sua esistenza, nonostante il suo ottimo potenziale, aveva dismesso gli abiti di supereroe a causa di un effetto collaterale sconosciuto che la Speed Force aveva su di lui. A furia di utilizzarla, infatti, il povero Kid Flash stava invecchiando paurosamente e senza possibilità di ritornare indietro. Per fortuna, durante la lotta contro Anti-Monitor, un raggio lo colpisce e lo guarisce da questo disturbo. Giusto in tempo per vedere il buon Barry Allen morire tra le spire della Speed Force. Wall-E allora prende il voto. Diventerà lui Flash. Sostituirà Allen e lo renderà orgoglioso di lui. Purtroppo, tutta questa sicurezza era solo una facciata, un castello di carte destinato a crollare. Infatti, nelle sue prime apparizioni, Wall-E era un Flash un po' lento, per essere considerato Flash. Non arrivava alla velocità della luce, ma solo a poco più di quella del suono. Non era in grado di far vibrare le molecole. Insomma, era una mezza delusione. Sarà però il suo incontro con Reverse Flash a cambiare tutto. La sola idea che Reverse Flash potesse prendere le sembianze di Barry Allen e in qualche modo infangarne la memoria, fanno scattare una molla nella mente del ragazzo. Scopre infatti che è davvero tutto nella sua testa, una sorta di blocco mentale, di complesso di inferiorità nei confronti del vecchio Flash che non gli permetteva di esprimere al meglio tutte le sue possibilità. In un baleno, Wall-E West sboccia e il suo Flash esplode. Riesce così a superare i suoi limiti, ma anche quelli del suo predecessore, divenendo il Flash tra i più potenti di quelli creati finora. Tra una battaglia e l'altra, evitando di fare spoiler, anche perché conoscerete meglio il personaggio quando acquisterete i fumetti e li leggerete, Wall-E sposa la sua fidanzata Linda Park, noto reporter televisivo per Channel 4 di Channelstone City. Finalmente sposati, Linda Park partorisce due gemelli, Iris e Jay, ma si ritrovano subito a scontrarsi con il nuovo Zoom e più volte con i nemici. Linda viene rapita e cancellata retroattivamente dalla storia. Dopo un'epica battaglia, Wall-E e Linda cercano infinite realtà alternative per tornare al loro mondo. Riuscendoci, tornano esattamente dove avevano lasciato e con il passare del tempo i due riescono a rimettere insieme tutti i pezzi della loro vita. La storia si complica poi con l'avvento di Crisi infinite, che vede Wall-E lasciare la Terra per rifugiarsi con moglie e figli in una realtà alternativa e lasciare il posto a Bart Allen, il bis-bis-nipote di Barry Allen. Siamo giunti quindi al quarto Flash, Bart Allen, precedentemente Kid Flash e Impulso. Nacque nel trentesimo secolo. Suo padre è infatti Don Allen, figlio del celebre Barry Allen, il secondo Flash. Sua madre è Melanie Twain, discendente del pergior nemico del velocista scarlatto, il professor Zoom. Ereditati i poteri del nonno, ma non il loro controllo, il giovane Bart subirà una crescita super accelerata, tanto che a due anni ne dimostrava già dodici. Per compensare, sua madre lo crescerà con una macchina per la realtà virtuale che simulerà per lui un ambiente a normale velocità. Per curare il piccolo, sua nonna Iris West deciderà di tornare nel tempo per parlare con un altro Flash, suo nipote Wally West. Costringendo il giovane velocista ad uno sprint che le macchine non potevano simulare, Wally stabilizzerà Bart e il duo comincerà a legare. L'essere stato cresciuto dalla realtà virtuale fa di Bart un bambino iperattivo e dotato di super velocità. Sogna però un giorno di diventare Flash. Avendo però passato relativamente tutta la sua vita a super velocità, Bart possiede poteri leggermente maggiori di quelli di Wally. Pur essendo più lento del cugino, Bart può raggiungere velocità ad un pelo da quella della luce, diventare intangibile facendo vibrare le sue molecole, far esplodere gli oggetti, ricordare qualsiasi nozione imparata anche a super velocità e creare cloni di pura energia. Preso il nome appropriato di impulso, Bart sarà per un po' il partner di Flash. Questo fin quando Wally non manderà il ragazzino sotto le ali protettrici del centenario maestro zen della velocità Max Mercury, che fingendo di essere lo zio di Bart, proverà ad addestrarlo non solo all'uso dei suoi poteri, ma anche alle gioie della vita nei soborghi di Manchester, Alabama. La coppia avrà alcuni problemi, ma in poco tempo Max diventerà come un padre per impulso. Bart metterà su anche una piccola galleria di nemici, fra cui spiccano la ladra nota come Fulmine Bianco e Taddeus Twain, alias Inertia, un clone di Bart creato dal padre di Meloni per vendicarsi finalmente della famiglia Allen. Nel corso degli anni, l'esistenza di Inertia porterà a dozzine di quelle buffissime commedie degli equivoci che succedono solo nelle fiction. Quando il giovane criminale, noto come Bedlam, cancellerà tutti gli adulti della Terra, Bart si dovrà alleare con gli eroi adolescenti, Robin e Superboy, per combattere la minaccia. In seguito il trio deciderà di lavorare insieme, fondando il più grande gruppo giovanile di supereroi che il mondo abbia mai visto, Young Justice. Al trio in seguito si uniranno altri eroi ed eroine. Bart nel corso degli anni maturerà molto grazie all'aiuto di Max e del gruppo, arrivando non solo a sviluppare una cotta per una compagna di squadra, nota come Miss Freccetta, e anche sviluppando di più i suoi talenti e la sua intelligenza, ma restando comunque largamente impaziente e impulsivo. Dopo lo scioglimento di Young Justice, Bart verrà reclutato nel gruppo dei giovani titani, riformatosi dalle sue sceneri. Quando il criminale Deathstroke gli farà saltare un ginocchio, con un canne mozze, Bart deciderà di cambiare approccio alla vita e costume, leggendo tutti i libri della biblioteca pubblica di San Francisco e prendendo il nome di Kid Flash. Usando le sue conoscenze, Bart diventerà un genietto e otterrà un ginocchio artificiale. Insieme ai titani, Bart vivrà numerosissime avventure, ma quando il potentissimo Superboy Prime attaccherà il mondo, nemmeno la forza combinata dei giovani titani riuscirà a fermarlo. Per salvare il mondo, tre generazioni di Flash proveranno a lanciare il folle kriptoniano all'interno della fonte stessa dei loro poteri, la forza della velocità. Ma Jay Garrick era ormai vecchio e stanco, e Wally sarà ancorato alla nostra realtà dalla sua famiglia, e Bart si troverà solo contro un semidio. Un semidio che sfotte il nostro, dicendogli che è solo un ragazzino solo e stupido. Sullo stupido c'è da discutere, ma Bart non è solo, perché, vedete, la forza della velocità è una sorta di paradiso per i velocisti, e strappando il velo dimensionale, Bart otterrà l'aiuto di suo nonno, di Max Mercury, e del velocista Johnny Quick, riuscendo ad intrappolare il criminale. Dopo poco, però, Bart uscirà dalla forza della velocità, se si può dire, un po' diverso. Il viaggio lo aveva infatti fatto invecchiare di qualche anno, e il giovane era diventato adulto. In più, il suo corpo aveva assorbito l'intera forza della velocità, rendendo Bart l'unico uomo più veloce del mondo. Dopo qualche titubanza, il nostro Bart prenderà in mano il business di famiglia, e diventerà il nuovo Flash. La sua carriera sarà però di brevissima durata. Il suo gemello, Inerzia, infatti, metterà su una trappola per recuperare la sua velocità, e costruirà un macchinario in grado di assorbire la forza della velocità. Quando la macchina si rivelerà una vera e propria bomba, Bart combatterà un esercito di criminali per salvare milioni di persone, ma perderà la vita ucciso dai nemici di Flash. Il suo ricordo verrà celebrato da tutti i suoi amici. Ma tranquilli, siccome stiamo nei fumetti, Bart riuscirà a tornare in vita grazie ad un piano del geniale Brainiac V, che aveva pianificato la morte di Bart, per stabilizzare di nuovo il suo ciclo vitale. Tornato dalla tomba, Bart si scontrerà di nuovo con Superboy Prime, e si riunirà ai giovani titani. Quando anche Barry Allen riuscirà a tornare dalla tomba, Bart rimarrà un attimo sconvolto, che tutti i suoi amici stavano tornando dall'aldilà, ma non il suo mentore, Max. Le suppliche di Bart però verranno ascoltate, quando il suo antenato, Professor Zoom, il peggior nemico di Flash, inizierà a pasticciare col tempo, richiedendo l'intervento di tutti i velocisti legati a Barry Allen. In questa battaglia, inoltre, Iris, la figlia di Wall-E, erediterà i poteri paterni e prenderà il nome di impulso con somma sorpresa di Bart. Dopo aver affrontato morti che resuscitavano, il rapporto con suo nonno, alcune avventure con i titani, Bart si ritroverà in mezzo all'evento noto come Flashpoint. Intrappolato nel flusso temporale per salvare il mondo, Bart si trasformerà in un fulmine che donerà a suo nonno i suoi poteri per dargli la possibilità di risolvere la crisi, morendo un'altra morte da eroe. Se finora era stato semplice mettere insieme le gesta dei tre Flash più importanti, li ricordiamo, Jay Garrick, Barry Allen e Wally West, con la Modern Age e le storie contemporanee tutto si complica in maniera incredibile e lo avete visto parlando di Bart Allen, purtroppo con la storia bellissima dei multiversi, con la spiegazione che un velocista morto torna nella Speed Force e può essere ripescato con la possibilità che hanno i vari Flash di andare avanti e indietro nel tempo, in pratica non si capisce più nulla. Ci sono momenti in cui ci sono tutti i Flash della storia contemporaneamente sulla pagina e tenere traccia delle vicende dell'uno o dell'altro è difficile se non impossibile. Possiamo però essere certi di una cosa, qualunque sia l'alter ego di turno, il personaggio di Flash è cruciale in tutte le transizioni, laddove c'è un cambiamento della realtà. Grazie a lui sono stati introdotti i multiversi e quindi implicitamente si è cominciata a instaurare la possibilità di cambiare sempre e comunque la realtà, così come viene conosciuta. Ed è Flash a essere chiamato in causa ogni volta che c'è un cosiddetto reboot perché lui ha i poteri per poter far cambiare il mondo. Dopo Modern Age parte una nuova linea narrativa chiamata Flashpoint. È emblematica e mostra un personaggio che è fondamentale per la nuova coniugazione dell'universo DC. Questa considerazione non serve a delegittimare gli altri supereroi chiamati in causa nei mille crossover reboot, ma semplicemente a mettere in luce il fatto che Flash sia un elemento cardine di ogni grosso cambiamento nell'universo DC, a fronte anche dell'importanza mediatica. Con questo quindi chiudiamo la nostra video recensione sulla storia dei quattro più importanti Flash dell'universo DC. Dopo Flashpoint parte un nuovo reboot della DC dedicato a rilanciare tutte le serie dell'universo DC a fumetti in cui si crea un nuovo universo dove le avventure dei vari personaggi vengono raccontate in 52 nuove serie mensili che ripartono dal numero 1. Naturalmente è coinvolto anche Flash. Il tutto riparte con un nuovo Barry Allen fidanzato con Patty, sua collega in polizia con cui andrà a convivere, mentre Iris West per lui è solo un'amica con cui un appuntamento non è andato bene. In questa nuova era editoriale, Barry Allen acquisisce i suoi poteri sostanzialmente nello stesso modo e si ritrova ad affrontare Manuel Lago, Capitan Claude, con tutta la banda dei nemici, Gorilla Grood e Anti Flash. Per quanto riguarda i suoi poteri, Barry Allen, in seguito al reboot, oltre a quelli classici di muoversi ad una velocità supersonica e far vibrare i suoi atomi per passare attraverso gli oggetti solidi, si pone l'accento soprattutto sull'abilità di pensare velocemente, caratteristica che permetterà più volte a Flash di calcolare ogni variabile di un evento e prendere la decisione più opportuna. Passano gli anni e tutto cambia perché nulla cambi, diceva qualcuno. Ed ecco che nasce Rinascita, che costituisce il rilancio dell'universo supereroistico della DC Comics dopo la chiusura anche di The New 52 partito nel lontano 2011. In seguito agli eventi avvenuti in Flashpoint si era zerata la continuity precedente e tutte le serie ripartirono dal numero 1. A distanza di 5 anni e in seguito ad una crisi di vendite il direttore creativo della DC, Geoff Jones, ammise che la nuova continuity aveva appiattito le storie dei personaggi DC, impoverendo la mitologia anche di eroi iconici quali Superman, Batman e Wonder Woman. Con l'appoggio di Dan Di Dio e Jim Lee si optò per riprendere in gran parte la continuity anteriore al 2011 e ripristinare così il background narrativo dei precedenti decenni, soprattutto con riferimento alle storie post-crisis. Con l'evento rinascita, quindi, Flash si ricorda del suo vecchio popillo Wall-E West alias Kid Flash, uscito dalla Forza della Velocità, rimasto imprigionato successivamente agli eventi di Flashpoint e a causa di questo nessuno, compreso Flash, ne ricordava l'esistenza. Da qui, quindi, le nuove avventure di Flash potrete trovarle nei fumetti usciti a partire dal 25 maggio 2016 ai giorni nostri. Detto tutto questo popò di roba, con che cosa possiamo iniziare a leggere Flash? Essendo Barry Allen il Flash più amato di sempre, il fumetto che mi sento di consigliarvi è quello che consigliano un po' tutti. Flash rinascita della Planeta De Agostini, con i testi di Geoff Jones e i disegni di Ethan Van Schiever. In questa storia, quindi, Barry deve confrontarsi con la sua ritrovata vita in un mondo che a stento riconosce. Pur essendo felici di trovarsi di nuovo accanto alla sua amata Iris, sente che qualcosa non va per il verso giusto ed effettivamente è così. Tutto ruota intorno al cosiddetto spirito della velocità, cioè una particolare energia che provoca distorsioni spazio-temporali e che riguarda ogni velocista del DC Universe. Per giunta, la minaccia che Barry dovrà affrontare è collegata al suo acerrimo nemico, il professor Zoom, e tale Villain ha molto a che fare con il presente e soprattutto con il passato, non sempre idilliaco di Barry. La trama è arricchita dalle apparizioni di luminosi personaggi Jay Garrick, Wally West, Bart Allen, il nipote di Barry proveniente dal futuro, altri velocisti come Johnny Wick, Max Mercury o Liberty Bell, Lanterna Verde, i Titani, la Justic League, i super figlioletti di Wally e così via. Quindi c'è tutto quello di cui abbiamo parlato finora. Mi sento però di appuntare i numerosissimi riferimenti a decenni e decenni di storie che solo i fans potranno cogliere. Gli accenni a nemici come Abracadabra, lo psicopatico Savitar o il Flash Nero, i rimandi all'apparente omicidio di Iris e così via. Di conseguenza, un lettore che magari si avvicina al personaggio per la prima volta, potrebbe sentirsi un po' spaisato. Tuttavia, il volume è valido e a mio parere consigliabile. Un altro volume che mi sento personalmente di consigliarvi è DC Omnibus Flash di Geoff Jones. Ci troviamo a Keystone City, la città del Midwest famosa per essere la capitale operaia degli Stati Uniti d'America. Fondata e abitata da colletti blu, ha il vanto di annoverare tra i suoi cittadini l'uomo più veloce del mondo, Flash. In questo volume, l'attuale velocista scarlatto Wally West cercherà di conciliare il suo nuovo ruolo di marito con il dovere di portare avanti l'eredità dei Flash. Dopo le eroiche gesta di J. Gerrick Barry Allen, ma la sua personalissima galleria dei nemici non rimarrà a guardare e farà di tutto per complicargli la vita. Geoff Jones, sceneggiatore di punta del fumetto nordamericano e Scott Collins, disegnatore in grado di infondere nelle sue pagine uno straordinario dinamismo e un'incredibile carica espressiva, hanno firmato uno dei migliori cicli di storia del velocista scarlatto, una serie di avventure nel più puro stile supereroistico, per la prima volta raccolte in un unico volume, questo che vi sto consigliando su Wally West. Bene, queste sono le letture che mi sento di consigliarvi se non avete mai letto nulla su Flash. In alternativa si potrebbe partire direttamente dal megavento Flashpoint per poi passare alle storie del nuovo universo DC firmato The New 52 per arrivare fino ai giorni nostri. A voi la scelta. questa recensione possiamo dire è una sorta di bignami da ascoltare in cui il lettore neofita di fumetti che si appassiona a Flash può farsi un'idea di quello che è accaduto intorno all'uomo con la saetta sul petto. Per quanto riguarda quindi la guida ai personaggi riguardante Flash è tutto mettete un like se vi è piaciuta la mia video recensione ci vediamo al prossimo video SIGLA